Salve a tutti da AlloStore, oggi abbiamo con noi il Case Thermaltake, il nuovo modello Level 20 MT a RGB. Case formato mid-tower, compatibile ovviamente con schede madri ATX e micro e mini ATX. Design elegante, materiali veramente ottimi, Thermaltake usate sempre materiali di altissima qualità, in questo caso sono previsti due pannelli vetro temperato 4 mm, uno nella parte anteriore, uno nella parte posteriore ovviamente per far vedere i componenti all'interno. In dotazione sono previste quattro ventole, tre nella parte anteriore RGB, quindi multicolor, e una nella parte anteriore, nera standard. RGB gestito da uno switch nascosto nella parte posteriore, con un tasto per gestire vari modi, quindi di cambio colore, un tasto fisico direttamente sul case. RGB è eventualmente compatibile anche con tutti i brand delle varie schede madri, quindi gestibile anche tramite software. Nella parte appunto sopra si trova ovviamente il tasto d'accensione, il tasto reset, doppia porta USB 3.0 e i classici jack per le cuffie. Alimentatore è posizionato nella parte inferiore, con griglia comunque per lo sfogo della ventola, per il ricerco dell'aria. Compatibile con dissipatore liquido, anche doppia ventola con gradiatore più grande, doppia ventola appunto da 120. Appunto ottimo materiale, in generale si presenta veramente molto bene anche esteticamente. Tutte le specifiche che si trovano sulla nostra scheda prodotto, i contatti ormai li sapete, grazie a tutti.